Dopo di noi, come sempre, le notizie del TG Montecitorio, poi il focus politico, questa sera l'appuntamento con lo sport con Rete Rete, ma prima di chiudere ci salutiamo con le immagini del concerto spettacolo che è andato in scena ieri, giorno di Pasquetta, al Parco dei Daini di Villa Borghese, più celebri waltzer, dei grandi maestri eseguiti dal vivo dai 42 professori d'orchestra della Filarmonica Prenestina hanno accompagnato l'esibizione dei campioni mondiali di pattinaggio, Alessandro Spigai e Anna Remondini, la coppia d'Oreo di Oakland 2012 e le performance di artisti trampolieri e ballerini in costume. Arrivederci e grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.